I can't remember to love me alone Cause you're beautiful tonight Hello guys, welcome to this new video of squadra malata Siamo qui nel terzo episodio Che siccome c'è stato richiesto da uno di voi nei commenti Quindi andremo avanti in questa serie che anche a me Stefano comunque piace Perché appunto Stefano è in parte a me Bella E direi subito di partire a scegliere le squadre Allora partiamo prima dalla nazionalità 2-3 Cosa? No, dipende Per la prima schifosa che esce Vediamo Francia A me va bene Toulouse fa schifo No, deve uscire schifosa Andiamo Ok, io l'ho scelta CSI Marti Maritimo Terec Grondi Vai, la prima partita No, le mangio uguali Vai Eccoci ragazzi, partiamo subito con la prima partita Vai, parti, parti Stato di qui La paratura Ah, so io queste Ah, sono io queste Ah, c'è Ah, c'è Sì Oh, ho 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 Luca, con dei poveri tira una parata straordinaria no la parata ma cosa sta succedendo dai casini vai guarda vai oh madonna è la goal della storia guarda no ma dai mi vedrei le play cos'è? ha fatto il 360 non è cadere per il Taroc guarda io ero voglio vallo bianco no 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 bravissimo per ira ma come ha fatto? ma che schifo perché faccio il portiere perché è divertente vuoi cosa vuoi fare la modalità granchi no prendila no dai 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 entra no no fanno uscire sono più divertente ti faccio 30 gol cosa fanno cosa fanno uuuh 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 dovete partire momenti uuuh 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 tu che schifo che schifo ritrovi quelli bronzo di giuro più veloci di ronaldo no il 97 moduli un'ultimo scattolo un è partito è partito che parte del mezzo no 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 colasso un marzo un 1-0 e guardami chiese di mare dai un gol da lontano oddio state tutti per assistere un gol di punizione scherzo oddio non ci arrivava ma chi ma perché mi parla t'ha fatto ma la mia squadra non è per caso algeri ma qui dirà show mi fido di te tanto il gol dell'anno tanto il gol dell'anno ahia ti è stata di komorski oh come on komorski è uno dei nuovi come si dice dei pinguini di madagascar e di bolo lo vede e vabbè sto dominando io a parte il fatto che sto dominando io chi io eh adesso scopri che ho l'80 tentatilo dal centrocampo madonna tira tira vabbè c'è scritto 6 minuti a tempo la partita è già di 10 minuti 10 minuti uuuu buuuu se ne soffrende ahhh ma che schifo vero no 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 oddio non si capisce se deve incacciare se non è cosa fa il portiere no 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 vai ti prego povero bronzino oh oddio no 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 eh squadra cinese no ma basta ah no no vuoi giocare con gli amici non abiti ricerca sulla play tutto rispetto ti adoriamo sai che mio amico che ho fatto ho registrato l'ultimo video e lo vedrà no già sta a fare vai guarda no no tu sei accorto da subito che stai messendo la figura di merda non so perché mai avresti idea no ma se vuoi tenerla certo che la tengo tanto che io gli vivi qui a lui si che dettagli sta hai visto il suo nome da subito congelato questa parte epico? nooo non ci posso forse contro piede nooo 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 no 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 si e va che cazzo che partita fantastica mi sono diventato un sacco allora ragazzi se il video vi è piaciuto invito a lasciare un bel like commentare qua sotto per farmi sapere cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video bella ciao ciao